ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo video proverò gli ultimi due personaggi da provare andiamo sempre con la prima missione poi mode sceglieremo lui ma il partner lui guardiamo l'equipartamento lui usa doppie spade e non ne abbiamo altre e invece lui usa la lanza le mosse con la 1 otteniamo le sue automatiche per provarle queste sono le combo disponibili con la lanza e queste con le due spade la battaglia non cambia sono sempre quelli nemici andiamo iniziamo wow che combo lui con questa base intera con le due spade sta diventando il mio preferito fino ad ora è incredibile bisogna sconfiggere sempre nei miei credo che con lui non ci sia problemi ma proviamo le mosse concordate wow senza parole adesso abbiamo aumentato la velocità adesso proviamo quella con sull'is che come tutti rispettano ora proviamo la super 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 wow sconfiggere tutti i nemici dietro a fianco dappertutto in quella mostra spettacolare veramente viene sconfiggere l'enemico ora abbiamo sconfiggere tutti i nemici ora abbiamo sconfiggere tutti i nemici li sento nemici quindi andiamo qua sconfiggere tutti i nemici attiviamo per recuperare metà super questo è spettacolare con erro 1 quadrato e la mossa spettacolare veramente viene sconfiggere l'enemico aumentiamo la velocità del personaggio che lo mettiamo in un giallo non la faccia non la faccia ma questa volta non la faccia che ci amava un po' ai fatti suoi E andiamo Nuovo obiettivo Scomplice questo Ora cambiamo Il personaggio Anche se questo è comodissimo Fino ad ora E' quello più comodo che ho provato Lui usa la lancia Proviamo la mossa più fordata R1 fordata Non servizia tanto Perchè sono un posto Un po' Ho messo male Adesso usiamo la sopra Spettacolare anche questa Anche questa Con tutti i 70 nemici Abbiamo avanti attacchi Combinati Continuo insomma Non smetterebbe mai Ad attaccare Abbiamo preso un libro Abbiamo trovato una casa Per un intorno Ma Un nemico E' da quella parte Adesso guardiamo la mossa con l'erone Un'erone Va alle spalle del nemico L'erone Pisa le spalle E' da quella parte L'erone Scendiamo la tovalla. Eccolo, non voglio assendere la tovalla. Scendiamo la velocità. Vediamo se si è rassato un oggetto. Minus di esperienza. Ci sono dei combo anche bene. La prima combo, questa qua, è molto utile. Ho visto bene. Se sono vicino a un alleato, posso fare il pettacolo finale insieme a lui. Il nostro compagno, Ijama Super, insieme. Spettacolare. Si mette anche in posa. Inferibile. Peccato che non sono riuscito a controllare meglio. Però, incredibile, si può fare anche le mostre in cera. Il nostro compagno è un po' di più. andiamo indietro usiamo la super obiettivo bonus scomplice da questi due nemici forse era questo l'obiettivo che mi mancava lui è spettacolare, incredibile vediamo se trovo il nemico ma sana lasciate nei commenti se anche per voi lui è un personaggio molto molto utile torniamo indietro prendiamo il cavallo lui fa una cazzo per l'altro prendiamo il cavallo andiamo a frontare l'ultimo nemico questo è il boss liberiamo un po' la zona riportiamo un po' di super affrontiamola mettiamo un po' di velocità vi faccio notare che ci stiamo affrontando proprio il nostro personaggio wow che colpa stiamo combattendo col stesso personaggio vedete si sta autosconfidendo ho visto una pergamena? ora sconfizziamo il boss con la sua super è sconfitta lui è un personaggio incredibile abbiamo vinto col cavallo obiettivi speciali tutti compiuti questa volta quindi era proprio quella missione speciale che mi mancava guardiamo l'esperienza abbiamo guadagnato 4.480 in tutto 16.884 abbiamo guadagnato pergamene e due libri perfetto adesso tocca alle armi abbiamo guadagnato 5 armi e una speciale bella perfetto per questo video è tutto perché la demo finisce qui se vi è piaciuto scrivetelo nei commenti mettete un bel pollice in su accendete la campanella per nuovi video grazie per avermi seguito ciao 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 ciao